Non si arrestano i problemi per la futura pediatria di Padova. Il progetto del nuovo edificio in via Giustiniani è bloccato per questioni di spazio. La volumetria messa a bando infatti non è sufficiente a ospitare i 170 posti letto previsti e necessari per le esigenze dei piccoli pazienti e delle famiglie. Un controsenso secondo la rappresentante del forum delle associazioni amiche della pediatria Roberta Zito, che si espressa così sulle pagine del gazzettino. La pediatria non deve essere un dormitorio, non deve nascere senza gli ambienti idonei e ospitare tutti i servizi all'avanguardia. Vanno garantiti il posto mamma nelle stanze di ricovero, la lavanderia e una scuola. Il progetto prevede quasi 12.000 metri quadrati complessivi suddivisi in sette piani. Investimento 54 milioni di euro.